ciao a tutti ciao a tutti allora oggi parliamo di immigrazione ma prima sigla l'immigrazione allora io mi ricordo bene quel periodo in cui Gheddafi il leader libico il raiz quello che aveva già bombardato Lampedusa insomma quel pazzo scatenato di Gheddafi che cosa aveva fatto era venuto qui in Italia si era piazzato con la sua tenda berbera fuori da un palazzo famoso a Roma adesso non ricordo bene e contornato da guardie del corpo al femminile tutte donne ed era stato abbracciato da Silvio Berlusconi da re Silvio e gli aveva detto Silvio lui aveva detto tu sarai il mio amico per sempre io ti voglio bene Raiz se non che dopo un paio di mesi o tre mesi adesso lo ricordo bene la Francia ha deciso di bombardare la Libia e di rovesciare il regime di Gheddafi l'autorizzazione ai bombardamenti è stata data anche dall'Italia che ha firmato con tutti questi che oggi sono contrari all'immigrazione hanno firmato tutti hanno detto ok bombardate la Libia ma secondo voi bombardando la Libia ci voleva uno scienziato per capire che il confine che divideva l'Africa dall'Italia e quindi un muro uno pseudo muro perché Gheddafi comunque garantiva una limitazione nelle partenze dall'Africa verso l'Italia ci sarebbe poi stata una una immigrazione di massa ok adesso invece tutti dicono che la colpa dell'immigrazione è la tolleranza che noi italiani abbiamo questa ospitalità bisogna affondare le navi quando stanno arrivando bisogna bloccare i porti bisogna andare lì e costruire carceri muri ed altro io non sono un ipocrita e veramente dico che è un problema grosso questo dell'immigrazione enorme perché quando uno va in giro con la propria famiglia pensare che un pazzo africano ubriaco riesca ti dia una una macetata è una cosa abbastanza che mette inquietudine oppure pensare che la propria figlia i propri figli possano essere malmenati o stuprati da questi sbandati questi questi nulla facenti perché in italia c'è poco da fare non è che gli africani vengono qua per trovare lavoro ci mancherebbe altro in italia non c'è lavoro per gli italiani figuriamoci per gli immigrati questi vengono qua stanno qui nei centri di accoglienza per poi sperare di immigrare ancora in altre nazioni d'europa che magari hanno lavoro che possono offrire lavoro comunque per migliorare la loro già schifosa vita in africa vengono qui fanno una vita altrettanto schifosa perché non penso che siano meglio di là e poi cercano di andare via non è che stanno qua in l'italia la cosa che a me fa un po impressione è questa è che se uno pensa a qualsiasi impresa idile italiana negli anni i muratori per la maggior parte sono sono gente dell'est quindi rumeni slavi jugoslavi albanesi che stanno qui e lavorano sopra i ponteggi nei cantieri e di italiani ce ne sono pochi che fanno i muratori eppure stanno qui alcuni pagati a nero altri hanno invece si sono radicati hanno portato le loro tradizioni stanno qui felicemente in italia sono immigrati ugualmente quei rumeni però nessuno dice nulla perché gli affittano le case perché le mogli fanno da badanti ai nostri anziani e quindi si sono ben integrati nella nostra società ma così anche i filippini pensiamo a quanti filippini sono arrivati qui in italia e che fanno da maggiordomo o da colf a famiglie benestanti delle grandi città italiane oppure ancora i sudamericani oppure ai pakistani agli indiani ma quante volte ci hanno servito della pizza sfornata da forni italiani ma indiani o pakistani voglio dire gente tranquilla onesta che lavora ora noi siamo fondamentalmente dei razzisti perché chi più chi meno chi molto di più chi molto di meno ma il solo fatto di dire io non sono razzista ma cioè dire questa frase è una cosa grave perché là dentro c'è tutto il razzismo c'è tutta la violenza io ripeto sono impaurito da questa immigrazione non so non voglio essere pochi sono impaurito perché sono tanti troppi forse il degrado nelle città se si va a roma alla stazione termini c'è uno schifo intorno alla stazione termini c'è ci sono degli accampamenti sia di clochard che di immigrati che non si sa come o sono fuggiti dal centro di accoglienza oppure in qualche modo non potevano più stare lì nel centro con i centri di accoglienza e quindi il degrado nelle città grandi è importante e si vede si vede si sente è un problema molto grave questo dell'immigrazione ma secondo me non è il più grande dei problemi italiani l'italia ha subito e subirà continuamente proprio per la sua posizione geografica l'avvento delle genti da sempre dall'antica Roma con i barbari e proseguendo con le invasioni da parte dell'islam nel sud italia dalla grecia verso l'italia noi siamo il centro strategico del mar mediterraneo da sempre da tutte le parti venezia le repubbliche marinare sono diventate grandi proprio perché c'erano dei porti dove si scambiavano cultura e merci e quindi sì è un problema grave tutta l'africa si sta riversando in italia ma dobbiamo anche pensare a quello che stanno patendo queste persone perché chi arriva qui in italia sono tre anni che viaggia per arrivare qui in italia tra mille peripezie arresti sopprusi stupri a loro volta perché loro partono dalla regione dallo stato africano da dove devono partire e si fanno il deserto poi arrivano al confine libico e vengono arrestati e lì posti in delle sorte di campi di concentramento diciamo così quindi noi ribadiamo sempre di essere dei cristiani di essere dei padri di famiglia di essere cattolici praticanti baciamo i rosari preghiamo ci inginocchiamo dinanzi ad una croce ma poi alla fine questa cristianità e questa misericordia ce la scordiamo un po' quando si tratta del diverso non dico tanto quando si tratta di solidarietà tra italiani ma quando si tratta di diverso quando si tratta di altri popoli un pochettino ce la scordiamo ok un saluto alla prossima ci vediamo presto ciao ciao